Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI, per lavori sul viadotto del Turbone, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 70 della Consuma, senso unico alternato e restringimento di carreggiata al chilometro 1 nel comune di Pelago. A causa dell'incidente ferroviario avvenuto questa mattina nei pressi di Lodi, i treni a alta velocità tra Milano e Bologna con ritardi fino a 40 minuti e ripercussioni sulle linee regionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!